Eccoci, questo qui è l'albestoc dei coccodrilli, il segno della Lacoste, andiamo a visitare le squadriglie, stiamo dirigendoci alla squadriglia coccodrilli con Alberto che aiuta. Guardiamo lo stendardo, notiamo la mocca, andiamo a trovare i nostri amici, come siete messi? Piedi, 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 bella, bella. Ma avete tipo qua la fitta X? Bravo. No, XX è giusto X. Che non è più Payer. Come mai non sei a lavorare? Perché sono già abbastanza e io devo fare il video. Quando? Avete la bolla? No. Gabriele! Andiamo a vedere i Puffini, a vedere Castiglia e Kevin che non fanno niente, seduti. Un saluto per la stampa. Alza la traccia, come distrazione. Perché? È un fattaglino a busto. Ah sì, volevamo anche noi. No, me lo facciamo. Ma dov'è che è? Questa. Vai lì. Gabo, lo portiamo vicino al buco? Sì. Ecco Gabo. No. Che lavora. Ciao Gabo. Ciao. Bel Sassone mi sta. Ciao Daniele. Ciao. Passiamo alla squadriglia Leoni. Che siete molto avanti, sembra. Sembra vero? Sembra. Ciao Filippo. Ciao. Sei anche tu un leone. C'è un leone dentro. C'è Jessica che guarda Filippo che con quella specie di trivella, che dovrebbe essere una trivella, sotto specie. Prova levarla? Ma scusa ma loro ne hanno due, sono anche meglio delle vostre. Tutte due. Ma noi aspettiamo qualcuno che finisca che poi ce li fa tutti. Vero? Ovvio. Ho nevano il pistone. E cosa? Perché hanno il pistone? No. Non quei.